Buongiorno a tutti. Previsioni meteo riassuntive per mercoledì 3 gennaio 2024. Tese correnti zonali sferzano l'intero continente europeo trasportando masse di aria molto umida ed instabile anche verso il Mediterraneo. Di conseguenza la giornata trascorrerà all'insegna del tempo decisamente instabile lungo tutta la fascia tirrenica, alle prese con rovesci sparsi, più probabili in area centrale e meridionale. Ampie schiarite al nord già in mattinata, che dal pomeriggio tenderanno ad estendersi parzialmente anche alla Toscana. Formazione di nebbie mattutine in Val Padana centro-orientale. Temperature in ulteriore aumento con valori al di sopra della media. Venti fino a forti tra ovest e sud-ovest. Seguiranno decise schiarite, in attesa di un marcato peggioramento dalle caratteristiche invernali per venerdì. Maggiori dettagli verranno forniti nei prossimi aggiornamenti. Se vuoi ricevere le previsioni aggiornate, iscriviti e attiva la campanella.